Musica Altra giornata importante per la politica fanese perché oggi pomeriggio sabato 20 aprile al Dedeck, al ristorante Dedeck Marina dei Cesari, verrà presentata la lista Fano città ideale della candidata a sindaco di Fano Lucia Tarsi. Buon pomeriggio a tutti innanzitutto, grazie di essere qua sia la stampa sia gli amici della coalizione e tutti coloro che vogliono partecipare alla presentazione di questa lista. La presento io perché Lucia Tarsi mi ha chiesto di presentare questa lista perché in questo luogo cinque anni fa è nata quella lista che poi si concretizzò con una candidatura al sindaco del sottoscritto e perché insieme a molti di loro abbiamo iniziato quell'avventura che ci porta oggi ad avere come candidato sindaco l'espressione di quella lista civica che era nata cinque anni fa. Quindi è un luogo per noi molto importante. Lo è anche perché si trova in una zona della città che è cara a molti di noi. Io sono nato qua vicino, Lucia ha vissuto parte della sua infanzia da queste parti perché comunque i suoi nonni hanno sempre vissuto nella zona del porto. E' una zona che sicuramente meriterebbe anche di più di quello che ha avuto e che sta avendo, come nel complesso la città. Se a distanza di cinque anni siamo qui a ringiovanire, a rinvigorire una lista, lo facciamo perché crediamo che in questi anni che sono passati soluzione ad alcuni problemi non è stata assolutamente portata a termine, a iniziare dal discorso della sanità che sapete che sta molto a cuore a noi in particolare perché la lista che nacque appunto cinque anni fa nacque dall'unione tra le battaglie del sottoscritto e quelle fatte dal comitato Santa Croce di cui Lucia insieme ad altri era espressione. A distanza di tanti anni non abbiamo visto una benché minima soluzione a quel problema, nonostante che una battaglia partita in solitaria sia poi stata condivisa quantomeno a parole da tutti quanti e se andate a vedere programmi, interventi che sono stati fatti negli ultimi anni, tutti parlano della difesa del Santa Croce sta di fatto che qualche anno fa, tanto per fare un esempio, venne aperto in pompa magna un reparto di pediatria oggi ci sono gli anziani dentro, tanto che per qualsiasi cosa c'è un via vai tra Fano e Pesaro ingiustificato e ingiustificabile di pazienti che non riescono a capire perché bisogna essere ricoverati a Fano, poi si va a Pesaro, poi si torna a Fano e tutto il resto. Dana, proprio in questo luogo nacque la lista? In questo luogo è nata la lista cinque anni fa, ha avuto un percorso lungo ma comunque coerente oggi a rappresentare la lista che avevo creato cinque anni fa c'era Lucia Tarsi Lucia Tarsi nasce dalla lista Dan, diventa il candidato sindaco di tutta la coalizione quindi come lista siamo sicuramente contenti e soddisfatti e vuol dire che avevamo visto le persone giuste al posto giusto. Una lista nata con un obiettivo principale, quello della difesa dell'ospedale Santa Croce una battaglia che tutt'oggi portate avanti e porterete avanti in futuro? Guardi, io negli ultimi anni ho lasciato a Lucia il compito di portare avanti quella battaglia oggi possiamo ancora modificare alcune cose credo che nel momento in cui tutti i partiti di maggioranza e di opposizione che non si sono mai fatti vedere a suo tempo per una battaglia condivisa sul Santa Croce oggi tutti parlano di difendere Santa Croce noi l'abbiamo detto per primi, abbiamo combattuto per primi ci siamo trovati anche da soli a volte di fronte all'ospedale Santa Croce per difendere il nostro ospedale oggi tutti sono consapevoli che ci hanno fregato e quindi vogliamo porre fine a questo scandalo che vede privilegiare Pesaro a discapito di Fano Questa conferenza stampa si è conclusa con una sorpresa, con un suo annuncio? Sì, io francamente ho detto prima che avrei preferito delegare ad altri diciamo così il compito di continuare questo percorso perché tutti devono avere la possibilità di dire la propria espressione, il proprio desiderio, la propria battaglia però francamente mi sono trovato in una squadra nella quale ci sono delle persone squisite che oggi mi hanno fatto commuovere più di una volta che nei giorni scorsi mi hanno chiesto di essere della partita quindi ho detto sì, mi canto anch'io al fianco di Lucia Tarsi Ha preso questa decisione e la vedremo ovviamente nella lista Lucia Tarsi sindaco, bocca al lupo Grazie, viva il lupo Una di quelle giornate che nella vita di una persona semplice, di una cittadina normale sia una delle più importanti giornate che ci possono capitare è un grande orgoglio essere qui in mezzo a queste persone meravigliose soprattutto perché sono persone che fanno parte della mia vita in questo momento è come se vi presentassi un pezzo della mia vita e sono tutte le persone con cui ho condiviso battaglie con cui ho condiviso idee, con cui ho condiviso valori sono persone che mi rappresentano e io sono estremamente orgogliosa di poterle rappresentare Lucia, una conferenza stampa di presentazione è molto emozionante emozionati i candidati ma anche coloro che hanno ascoltato questa presentazione 24 persone, giovani, meno giovani, volti nuovi alla politica ed altri invece che hanno una grande esperienza alle spalle Sì, effettivamente è stata una conferenza stampa piena di emozione ce lo potevamo anche aspettare perché molte di queste persone non sono politici di esperienza nessuno di noi, tranne Giancarlo, evidentemente è un politico di esperienza e quindi era inevitabile che tutta la carica emozionale di questi giorni abbiamo lavorato molto intensamente al programma a fare squadra, a conoscerci meglio era inevitabile che venisse fuori però l'emozione non è soltanto un'emozione diciamo così legata all'evento ma è un'emozione interiore cioè queste sono persone che si sono radunate si sono raccolte perché hanno una voglia profonda di cambiamento e questa voglia e questa passione è emersa proprio nella solarità nella solarità e nella carica e nell'empatia che sono riusciti a trasmettere questa è una squadra bellissima che ricalca in parte la squadra del 2014 nel 2014 eravamo 24 persone forse più adulte come età media e questa volta invece siamo riusciti ad ottenere una squadra molto variegata per età ma anche per mestieri, per professionalità, per incarichi e quindi siamo riusciti a rappresentare la nostra città a 360 gradi ed è una squadra di persone che stimo perché fanno parte della mia vita molti di loro li conosco da tanti anni con loro ho fatto battaglie, con loro ho lavorato con loro ho fatto volontariato, associativismo e quindi conosco l'impegno politico-sociale intendo sempre sottolineare che accanto alla parola politica io metto sempre la parola sociale quindi non la politica di chi ama la poltrona ma la politica di chi ama la gente e di chi ama la città ha detto anche che il programma è molto simile a quello del 2014 quindi nonostante siano passati 5 anni le vostre battaglie sono sempre le stesse incredibilmente quando qualche mese fa abbiamo ripreso il vecchio programma ma ci siamo resi conto che di fatto di tutte le richieste che la città avanzava nel 2014 questa amministrazione non è stata in grado di fare assolutamente nulla quindi il programma del 2014 viene ovviamente aggiornato alcune cose sono addirittura peggiorate quindi sono state sottolineate per il degrado che hanno acquisito in questi anni ma di fatto la nostra lista tale era nei suoi intenti, nelle sue volontà, nella sua passione e tale è rimasta sono cambiate solo diciamo così le prime linee mi piace dire perché la vecchia lista è rimasta comunque in seconda linea a lavorare con me quindi io ho una squadra molto forte un team che è composto non solo di altri ragazzi che vengono dai partiti della coalizione ma anche e soprattutto nelle figure diciamo principali organizzative sono tutte persone della lista d'anna del 2014 che sono assolutamente un enorme supporto per me sicuramente la sanità è uno dei punti del vostro programma però lei ha anche detto che Fanno non è più viva non è più una città per i giovani non è più una città sicura e sostanzialmente una città che non sorride più esatto sì nonostante tutto quello che sentiamo raccontare noi cittadini fanesi sappiamo bene cos'era la nostra città dieci anni fa e che cose oggi inutile negare l'evidenza inutile continuare a dire che le cose vanno bene perché i cittadini fanesi lo sanno perfettamente che le cose non stanno andando bene allora il tema principale è inevitabilmente la sanità perché riguarda tutti un ospedale di Fanno che è di fatto praticamente vuoto sono rimasti pochissimi reparti e tutti i reparti prevalenti sono ormai a Pesero e nelle intenzioni c'è di fatto quella di chiudere l'ospedale quindi il mio impegno da futuro sindaco è quello di frenare assolutamente questo scempio questo smantellamento noi siamo per una sanità pubblica e di qualità la sanità privata viene dopo la sanità privata non può essere sostitutiva della sanità pubblica deve semmai integrarla quindi il nostro focus principale è salviamo l'ospedale Santa Croce gli altri temi sono legati sicuramente allo sviluppo del territorio un territorio che non riesce ad uscire dalla crisi lo abbiamo analizzato in vari modi con i nostri incontri pubblici con dati anche di tipo tecnico che ci dimostrano in maniera inequivocabile che Fanno sta scendendo una china e sembra difficilissimo riuscire a invertire la rotta quindi noi assolutamente ci poniamo come baluardo ultimo noi vogliamo frenare questo precipitare della nostra città vogliamo che la nostra città ritorni ad essere una città produttiva una città solare una città vitale una città moderna è una città che è rimasta ferma in questi cinque anni stare fermi ora non significa stare fermi significa perdere vent'anni noi rispetto alle città della vicina Romagna siamo vent'anni indietro abbiamo bisogno assolutamente di recuperare e attraverso le professionalità che la mia lista ma anche la nostra coalizione riuscirà a mettere in campo noi abbiamo tutti gli strumenti e tutte le persone giuste per poter ottenere questo obiettivo il terzo tema che è un tema molto sentito dalla gente è il degrado della città unito alla sensazione di insicurezza che non è solo una sensazione visto anche gli eventi e i furti e la criminalità che comunque nella nostra città continua a dare testimonianza di esistere quindi è inutile continuare a dire che le cose vanno bene le cose non vanno bene semplicemente la gente non denuncia più i piccoli crimini perché si è stancata di denunciare cose che poi non hanno efficacia le forze di polizia e le forze dell'ordine hanno assolutamente tutto il nostro supporto il nostro sostegno sono anche loro in difficoltà perché la loro numerosità purtroppo è sempre un fattore critico in polizia 5 persone andranno in pensione entro il 2019 quindi avremo 5 agenti in meno i dati non sono assolutamente di grande conforto quindi noi creeremo una rete di supporto e comunque di collaborazione con le forze dell'ordine perché il territorio va presidiato per dare la sicurezza ai cittadini per impedire il dilagare della microcriminalità per dare anche un segno importante mi viene voglia di dirlo di questo vento che sta coinvolgendo tutto il nostro paese ed è un vento di rinnovamento ma soprattutto di recupero dei nostri spazi riprendiamoci la nostra città Allora io mi chiamo Donatella Catenacci e svolgo la professione di avvocato sono una urbinate di nascita ma una fanese di adozione nel senso che ormai Fano mi ha accolto con grande simpatia con grande empatia da oltre 25 anni quindi qui svolgo la mia professione ho la mia famiglia ho i miei interessi devo dire che nella mia storia c'è la fondazione sono stata socio fondatore di un paio di grosse associazioni della città con cui ho sempre lavorato e collaborato soprattutto nei temi sociali per professione poi mi occupo di famiglia minori, anziani, disabili oltre tutto il resto ma questa particolare attenzione ce l'ho per incarichi che mi vengono appunto dalla professione ma soprattutto perché credo in questo progetto c'è una frase che per chi mi conosce è molto ripetuta nella mia vita che è quella di Gandhi che dice che per cambiare bisogna cambiare e ho lavorato sempre all'esterno portando i risultati per l'esterno oggi in virtù di questa frase dico che se per cambiare bisogna cambiare cambio entrando e provando a entrare dentro quindi grazie a tutti per la fiducia Donatella, lei oggi si è presentata anche se è già nota ai telespettatori di Fano TV avvocato, fanese d'adozione e mi è piaciuta molto una frase che lei ha citato al termine della presentazione stessa di Gandhi sì, che dice che per cambiare bisogna cambiare e questa frase mi piace, mi appartiene e diciamo che l'ho sempre interpretata dicendo che una persona dice voglio cambiare poi però se non fa un'azione per il cambiamento il cambiamento rimane teorico e quindi visto che come mi ha anticipato sono abbastanza nota per delle diciamo attività che mi vedono impegnata sia nel volontariato che per la difesa delle fasce più deboli ma anche per la famiglia e per altre attività della città di Fano questa volta il mio cambiamento parte da un'azione interna diciamo e quindi non più come collaboratore esterno della città ma all'interno per renderla più vivibile e anche naturalmente più strutturata più funzionale e più adatta ai fanesi che io amo anche se mi hanno adottato anzi senza anche perché mi hanno adottato come ho detto con simpatia con empatia e con grande amore lei in questi anni proprio per motivi di lavoro ha avuto modo di collaborare con l'amministrazione comunale in che senso vorrebbe dare il suo contributo allora mi piace anche in questo caso dire che non va demonizzato quello che è il lavoro di un'amministrazione i problemi sono tanti però certamente posso dire che va riorganizzato tutto il bacino delle risorse della città è un bacino di risorse poco utilizzato diciamo che se fa una risorsa 100 ne vengono utilizzate 40 quindi per l'altro 60 c'è bisogno di qualcuno che probabilmente con una gestione forse più manageriale più snella più pratica che guardi meno la burocrazia e più al risultato è ora di fare diciamo un intervento perché votare qualche candidato della vostra lista e perché sostenere Lucia Tarsi? allora innanzitutto sostenere Lucia io voglio dire che con Lucia ho fatto la lotta per il dimensionamento della scuola e soprattutto contro bullismo e cyberbullismo nelle scuole una battaglia che ha avuto grandissimi risultati abbiamo sempre collaborato con la polizia postale abbiamo fatto tanta campagna di informazione perché votarsi? votarsi votare me? votarsi e soprattutto perché votarsi significa anche credere in quello che si fa e quindi votarsi faccio parte di questo gruppo perché credo fortemente nella Lucia nel suo progetto e sono convinto che con lei questa città possa avere quella svolta che ormai da tanti anni manca buon pomeriggio mi chiamo Manuela Gregorini sono una studentessa universitaria conosco Lucia da dieci anni è stata mia docente di matematica a liceo e relativamente a quegli anni ho un ricordo molto bello di lei la ricordo un'insegnante estremamente materna accogliente dotata di una forte predisposizione al dialogo e all'ascolto di tutte noi ragazze ho conosciuto Lucia circa 4 anni fa infatti è stata un'insegnante a liceo classico a Fano di matematica e fisica e sono in sintonia diciamo con le sue idee quindi sono in perfetto sintonia con le sue idee e diciamo mi fido mi fido di te e penso che comunque con diciamo collaborando e quindi con un lavoro sinergico in questo gruppo possiamo realizzare dei cambiamenti che possono essere comunque decisivi diciamo per la città di Fano ecco sono in questo gruppo per questo punto sempre di dare il meglio di me come mi hanno insegnato i miei genitori e come mi ha insegnato Lucia sono qui per diciamo rappresentare la fase giovanile dal momento che ho 26 anni noi giovani siamo importanti per la nostra città siamo importanti per farla crescere perché siamo noi senza togliere nulla a nessuno siamo noi il futuro di tutto e questi sono i quattro giovanissimi che fanno parte della lista di Lucia intanto i vostri nomi Marco Carnaroli Francesco Olivieri tu Manuela Gregorini Antonio Stipulante ecco che cosa fate nella vita quindi ci presentiamo un attimo ai nostri telespettatori e perché avete deciso di entrare nel mondo della politica allora io sono studente universitario ad Ancona studio ingegneria e ho deciso di partecipare alla lista della Tarsi diciamo lei è stata mi fido di lei è stata una persona importante insomma non solo prof anche dal punto di vista umano e insomma ho delle idee in sintonia con lei in perfetta sintonia per quanto riguarda comunque il diciamo il voler aiutare la città ifano in modo decisivo insomma con dei cambiamenti che abbiano effettivamente una ripercussione efficace sulla vita dei cittadini e dovete sapere che ben tre di questi ragazzi sono stati alunni di Lucia anche tu giusto? esatto io mi chiamo Francesco Olivieri ripeto e sono stato alunno di Lucia e oltre alunno mi ha anche lasciato mi ha anche trasmesso quella voglia di fare quella voglia di migliorare la considero veramente come una seconda mamma lo dirò sempre e lo continuo veramente sempre a dire attualmente faccio responsabile di sala ho avuto delle esperienze in questo campo sotto il punto di vista della ristorazione e hotel e mi impegnerò soprattutto per quanto riguarda di migliorare il discorso del turismo qui a Fano dal momento che siamo una città balneare una città importante che siamo la terza città delle Marche e questo non ce lo dobbiamo scordare e abbiamo tante cose da fare tante cose su cui lavorare e io mi auguro e ci auguro un grandissimo in bocca al lupo e faremo sicuramente un ottimo lavoro per quanto riguarda il necessario per quanto riguarda la nostra città da un ex alunno ad un'altra ex ad un addirittura hai detto Manuela che Lucia è un esempio per te sì assolutamente confermo quanto detto prima durante la presentazione della nostra lista ho un ricordo estremamente dolce di lei è stata un'insegnante materna accogliente e dotata di una forte predisposizione all'ascolto e al dialogo con noi studentesse eravamo una classe di sole ragazze molto probabilmente sia distinta tra gli altri docenti che ho avuto proprio per queste sue peculiarità che ho avuto modo di riscontrare lei nella sua persona anche al di fuori dell'ambito scolastico nella vita di tutti i giorni è per questo che io ho deciso di affiancarla di supportarla credo in lei nei suoi bellissimi e lodevoli progetti per questa città di rinascita ecco di questa città e niente sono estremamente contenta per questa possibilità che mi ha dato conosciuto un gruppo siamo un gruppo eterogeneo per me è motivo di orgoglio io la vivo come un'esperienza di arricchimento sia culturale che personale grazie io sono Antonio Stipulante sono laureato in economia e lavoro presso una ditta di informatica qui della zona sono stato travolto dalla passione di Lucia ammiro il suo amore per questa città e quindi sono molto contento di poter mettere a disposizione le mie idee per poter far qualcosa di concreto e di serio per questa Fano che ha bisogno di una svolta è bello avere insomma tanti giovani che decidono di impegnarsi per far crescere la nostra città sono fanese da adozione ma mi considero fanese a tutti gli effetti sono più di 45 anni che vivo qui e ho lavorato 5 anni a Urbino sono 11 anni che lavoro a Fano e poi Marche Nord quindi ho vissuto e sto vivendo tutto il problema della sanità fanese mi ero già presentato 5 anni fa con questa lista quindi alcuni già li conosco molti altri li ho conosciuti adesso in questo periodo e posso dire che è un bellissimo gruppo pieno di valori in cui credo molto grazie Lucia grazie a tutti Pietro lei è un medico specialista in ortopedia per cui sta vivendo in prima persona le eventuali problematiche dell'ospedale insomma della sanità sì come già ho detto prima la presentazione io ho lavorato prima a Urbino 5 anni poi sono venuto qua a Fano che ancora c'era la Santa Croce staccato dall'azienda allora San Salvatore e adesso da 5-6 anni sono sotto Marche Nord diciamo che quindi racchiude sia il presidio di Fano che di Pesano ed è stato proprio questo il motivo che l'ha spinta a candidarsi no non è stato questo io già mi ero presentato 5 anni fa conosco proprio da molto tempo Lucia e Giancarlo Danna quindi ci legano anche di un motivo affettivo così certo che la sanità comunque ha un ruolo importante nella mia candidatura che cosa spera per la città di Fano ma niente io penso che ormai il disegno sia già stato scritto da tempo purtroppo e quindi già si parla di ospedale unico già leggevo ultimamente che nell'arco di 5 anni c'è l'intento di costruirlo c'è questa possibilità della clinica privata è certo che uno che ha vissuto i 5 anni prima dei fasti le Santa Croce e adesso trovarsi sotto Marche Nord che per carità non si può di niente solo che logicamente ci sono un pochino di difficoltà perché racchiude due presidi una cittadinanza che comunque sono più di 100.000 abitanti e quindi anche come ricoveri come posti letto dimissioni c'è un pochino di disagio insomma mi aspetto insomma l'idea nostra logicamente era di tornare come prima cioè di valorizzare di nuovo il Santa Croce però non so se si riuscirà ad attuare tutto questo sinceramente la battaglia la porterete avanti la battaglia si la porteremo avanti sarà dura però il nostro intento tanto anche col comitato Santa Croce che è nato mi sembra più di 10 anni fa l'intento era già quello io conosco Lucia da circa 10 anni è soprattutto un'amica ma è una donna che stimo perché è leale è affidabile è concreta e penso che siano tutti valori fondamentali e che un futuro candidato sindaco cioè un candidato sindaco un futuro sindaco deve avere per poter gestire e dare un contributo alla città di Fano Ilaria anche lei fanese d'adozione ha fatto parte dello staff della Marina di Cesari fino a diventare direttrice oggi è commerciante oggi sono commerciante da poco più di un anno ho un'attività appunto di di fiori prevalentemente di fiori in centro a Fano però per i precedenti 14 anni mi sono occupata di Marina dei Cesari appunto prima come responsabile di front office e poi come direttore che cosa l'ha spinta a sostenere Lucia Tarsi Lucia stessa conosco Lucia da 10 anni circa ci siamo conosciute a Diteca poi insomma abbiamo mantenuto i rapporti e Lucia è una persona al di là dell'amicizia che abbiamo una persona leale una persona affidabile una persona concreta una persona attenta alle esigenze i bisogni di tutti e sono proprio i valori di Lucia che mi hanno convinto a far parte di questa squadra Stefano lei non è candidato ma è il coordinatore di Fano Città Ideali insomma gestirà un po' il tutto sì è quello che ho fatto con Lucia in questi giorni in queste settimane della verità e Lucia mi ha chiesto la cortesia di poterla aiutare nella gestione della lista che vuol dire svolgere tutti gli adempimenti burocratici che attengono alla presentazione della lista riguardo i candidati riguardo tutta la parte amministrativa che è quella della presentazione della lista vera e propria compreso anche la redazione del programma di lista dopo aver fatto tutti gli staff all'interno della nostra lista del nostro gruppo e io sarò il coordinatore anche di redigere o l'incarico di redigere la lista dei candidati e il programma definitivo come è nata questa collaborazione? Dunque questa collaborazione è nata cinque anni fa con la lista di Giancarlo Danna che mi aveva ecco chiesto di poter partecipare alla sua lista civica da lì è nata una collaborazione che si è protratta nei cinque anni di ecco mandato elettorale di seri ma comunque con i nostri candidati all'interno del consiglio comunale ho sempre continuato a collaborare con prima Dana poi Lucia Tarsi all'interno del consiglio comunale senza mai escludere il nostro ideatore che è Giancarlo Danna per poi arrivare alla candidatura sindaco della Lucia Tarsi e quindi nasce da allora insomma la mia partecipazione la mia strada mi ha portato a lasciare la grande distribuzione incontrare Lucia perché io ho sempre portato avanti un discorso in ambito sportivo e ho preso in mano con lei le redini del centro itaca cinque anni fa per quanto riguarda la scuola di equitazione abbiamo fatto squadra meravigliosamente per i primi anni ci siamo trovate molto bene perché Lucia è un capitano Lucia è una persona che ti mette nelle condizioni di lavorare al meglio ti sostiene senza voler mai intervenire di principio ma dà la possibilità alle persone di cui si fida di portare avanti un progetto e realizzarlo soprattutto Iliana anche lei fa parte dei 24 candidati della lista di Tarsi come mai ha deciso di scendere in campo perché già in passato ho collaborato con Lucia per un percorso di ricostruzione di quella che era la scuola equitazione del centro itaca percorso che è durato un paio d'anni bellissimi splendidi in cui Lucia ha dimostrato la grandissima forza di riportare alla vita qualche cosa che aveva bisogno di un rilancio sostenendo con molta passione e molta forza quello che è stato un progetto che ha dato dei frutti splendidi Lei non è originaria di Fano però possiamo dire che è una fanese d'adozione Esatto sono mezza fanese sono nata a Milano ho vissuto a Milano fino ai 20 anni ho fatto il percorso inverso di mia mamma che a 20 anni è andata a vivere a Milano io a 20 anni sono tornata a vivere a Fano dove ho costruito la mia famiglia e dove mi sono stabilita e dove ho fatto tutto il mio percorso professionale Che cosa vorrebbe per la città della fortuna? Allora il ruolo principale per la quale Lucia mi ha contattato essendoci noi conosciute in ambito equestre è tutto ciò che è riferito al benessere animale e alla sua integrazione con quella che è la città intesa non esclusivamente come una città per gli animali ma con una città per gli animali e per i cittadini che non hanno intenzione di stare a stretto contatto con gli animali quindi una condivisione di spazi ma ad ognuno il suo spazio sostanzialmente questo sarà quello cui punteremo un padrone consapevole ma un cittadino rispettato io la Lucia la conosco da moltissimi anni ben prima della nascita delle liste tutte quindi ho la massima fiducia in quello che vuole fare e per questo sono qui avrei potuto dire mi sento però un tecnico prestato alla politica che è una frase che piace molto ultimamente ma non è questo qui siamo tutti tecnici ma non prestati alla politica siamo prestati al bene della nostra città nel quale crediamo veramente molto grazie Alberto lei è in questa lista da tanti anni è stato uno dei fondatori da cinque anni nella passata legislatura ero presente ho contribuito a firmare la lista e sono ritornato sul luogo del delitto come l'ha vista crescere in questi anni e come la trova oggi? la trovo molto molto bene la presentazione di oggi è stata veramente bella ma soprattutto sentita si è visto che oltre le persone c'è l'umanità e il desiderio soprattutto di fare del bene alla nostra città non si è parlato di politica fanno città ideali che cosa vuole per la città della fortuna? adesso vi presenteremo la nostra lista ma abbiamo tante cose da fare come diceva il nostro candidato sindaco in cinque anni non è successo niente di quello che hanno chiesto che si facesse per la città e siamo di nuovo da capo praticamente quasi a riproporre le stesse cose credo che questa volta però sarà diverso perché le potremo fare conoscendo Lucia da un po' di anni dancare tutta la squadra con questi bei propositi e quant'altro ho deciso di far parte della squadra forte che sicuramente con Lucia tutta la squadra porteremo all'ospedale come era ai fasti di altre soddisfazioni di altre cose che io ho provato in tutta la mia vita ci credo ci riusciremo e dovremo tornare all'ospedale a dare le soddisfazioni a fanno ai pazienti alla gente malata non agli utenti ai clienti ai pazienti ai malati che devono guarire e a chi ci lavora intorno Pierpaoli lei ha esordito dicendo amo Fanno la mia famiglia e l'ospedale esatto infatti io mi ritengo alla mia età abbastanza soddisfatto della mia vita come l'ospesa in primis amo la mia famiglia perché è una famiglia meravigliosa ma al di là di questo amo Fanno perché Fanno è una città bellissima ci sto molto bene c'è tante caratteristiche si vive molto bene però ci sono tante cosine che mi piacerebbe migliorare e fare più belli insomma poi la terza cosa che io che io insomma ho nel cuore perché sono entrato all'età di 22 anni all'ospedale Santa Croce quando si chiamava ospedale Santa Croce si curavano i malati i pazienti con il cuore con l'anima con il fisico con gli occhi con lo sguardo con tutto e ho vissuto tanti anni belli ripeto sono entrato a 22 anni al Santa Croce sono entrato che era ospedale Santa Croce ancora non era neanche finito c'erano i padiglioni e i quinto piani c'erano ancora due padiglioni da finire i cinque piani ancora erano erano vuoti poi l'ho visto insomma crescere completarsi e quant'altro sono nei primi anni da 74-78 ho lavorato un po' in diversi reparti quasi tutti gli ultimi due gli ultimi due in cui sono stato più di tutto era la chirurgia con il professor Viglione e il suo Giovanna che mi ha cresciuto come una mamma che era poi nel 78 ottobre del 78 dieci anni dieci anni che dopo che è stata fondata l'ortopedia dal grande professor Colmio e lì sono rimasto fino al 2016 anzi il 2016 quando l'ortopedia fu portata a Pesaro nel 2013 2014 pur di non lasciarla l'ho seguita fino a Pesaro e sono andato in pensione a Pesaro e in tutti questi anni l'ortopedia è stata la mia vita anzi quasi direi oserei dire la mia prima casa perché più il tempo che passavo lì che in famiglia tanto è che un giorno mia moglie mi cercava e mia figlia diceva babbo dove? a casa sua come a casa sua? in ortopedia per dire un piccolo aneddoto adesso ha deciso di passare dall'ortopedia alla politica per cercare di portare avanti la battaglia anche della sanità sì ormai come ho detto prima sono ormai fuori da un paio d'anni però mi sento ancora di fare non mi considero pensionato ma diciamo scherzosamente diversamente pensionato perché comunque mi sento di fare mi si metterà in gioco in questo senso esatto allora su richiesta di Lucia che è una donna che ho conosciuto da un po' di anni che è molto stimabile l'avevo vista proprio ben piazzata quant'altro e alla fine ho detto sì va bene proviamo questa esperienza visto che insomma mi piacerebbe che l'ortopedia tornasse agli antichi splendori perché l'ho vista da quando da quando ci sono entrato pensavo cioè che diventasse quindi quando ero in pensione sarà grandissimo sarà fortissimo l'ha conosciuto invece l'ho vista nell'arco degli ultimi dieci anni fare la fine che ha fatto proprio chiude smontarsi tant'è che affano non c'è più per carità ben venga la clinica privata l'ortopedia però bisogna anche ripristinare per i fanesi e l'ospedale che dia servizi a 360 gradi a tutti i fanesi come lo era una volta con tutto quello che comporta perché urrà 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 ching 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 e poi la clinica privata per la clinica divina la clinica divina e poi la clinica divina l'età per la clinica divina che ravi trama Bravo!